Parto da questa notizia sulla Nazione in cronaca di Arezzo di oggi del blitz dell'altra notte a Gustolandia perché questa mattina ho saputo di un altro blitz che leggerete domani nei giornali relativo alla spaccata che hanno fatto al bar giallo-verde di Leville, Monterchi, di proprietà della famiglia Felicetti una famiglia me e amica che conosco molto bene e parto con questa sorta di editoriale in cazzereccio in quanto direttore irresponsabile dalla valutazione della proprietà in Italia e in Inghilterra mi riferisco all'Inghilterra perché l'Inghilterra, diciamo così, stabilita patria del diritto fin dai tempi più antichi dovrebbe essere una guida per quello che riguarda la fase legislativa prima della fase repressiva. E allora come in Inghilterra hanno debellato in due minuti la violenza negli stadi costruendo prigioni dentro gli stadi e ivi immettendo gli esagitati senza tanti processi che durano 3-4 anni ma il violento viene messo in galera dentro lo stadio e ci sta fino che non ha scontato la pena. Ecco, questa è stata la soluzione alla violenza negli stadi in Inghilterra. Noi abbiamo assistito, e sempre nella nazione di oggi, a Bologna, i cori razzisti a Bologna. Cioè Bologna l'adotta che dice Vesuvio per piacere fai il tuo dovere in occasione della partita con Napoli. Allora andiamo alle spaccate perché c'è un collegamento. Perché in Inghilterra, madre della, diciamo così, legislatura moderna, la proprietà è sacra. In Italia il codice ha recito che la proprietà è il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa entro i limiti e con l'osservanza dell'ordinamento giuridico. Ora voi mi capite che è talmente elastica questa dicitura che ogni avvocato che debba difendere un ladro se la può giocare entro i limiti con l'osservanza. No, in Inghilterra se tu entri nella mia proprietà, io ti sparo perché è la mia proprietà e la polizia viene, ti mettono un sacco nero e ti porta via. Dopo indaga su chi sei. Ma non indaga su di me. Da noi c'è l'eccesso di legittima difesa perché chiaramente se uno ti entra in casa e te gli spari, gli devi chiedere scusi, lei è armato, è intenzionato ad uccidere oppure è venuto qui per avere i miei dati IBAN, tante volte mi volesse fare un bonifico. Ecco, c'è questo interrogatorio da tenere conto. E questo perché succede? Perché le leggi in Italia sono così poco chiare? E state attenti, non è colpa dei giudici perché i giudici applicano le leggi. Sono i politici che fanno le leggi. E i politici le fanno così elastiche perché è tutto nel loro interesse. Tanto hanno le ville con blindature e scorta e nessuno gli andrà in casa a rompergli coglioni se non a casa nostra. Quindi Renzi nei suoi discorsi ha detto una cosa giustissima. I politici oggi non passano dai mercati rionali. Io aggiungo di più, i politici dovrebbero passare da qualche bar per sentire come la pensa la gente perché basterebbe mettere una norma per cui se tu entri in casa mia io ti posso sparare e tu muori che la delinquenza che è molto più organizzata della politica sparge la voce. Perché oggi basta che ne ammazzino se è toto che tra di sé e dopo vanno a rubare in altre nazioni perché si sparge la voce come quando esplode Frank Sinatra. Si sparge la voce. Io poi se non finisco con una cazzata non sono mai contento. Quindi cambiamo questo mondo. Mandiamo a casa questi politici che non hanno bisogno di leggi dure, repressive ma che portano un po' di dignità e di pace. E riguardo a questi politici oggi in giornata ci diranno se ammazzano i nostri marò o no. Perché capito? Gli indiani sono così. Oggi decidono se ammazzarli. Il ministro dell'Esteri Bonino, aggiungerei a una sega, si sta occupando del caso. Vediamolo. È così. Questa è l'Italia. Io tra poco... Si può dire dai coglioni? Ma è finito, ma hai ammazzato. Anche te... Anche te...